da poco erano suonate le undici ed impiegati temendo l'arrivo del capufficio tornarono in fretta e furia al loro lavoro ognuno gettò un'occhiata rapida ai fogli che erano stati portati durante la sua assenza poi cambiata la giacca con la vecchia veste da lavoro se ne andò a trovare il vicino non passò molto tempo che furono in cinque nell'ufficio di bon enfant l'applicato capo e iniziarono l'ormai tradizionale conversazione di tutti i giorni l'alunno d'ordine pedrix cercava carte smarrite nel frattempo l'aspirante sotto capo pistone sotto ufficiale d'accademia fumava una sigaretta cercando di scaldarsi le gambe stropicciandosi le cosce il vecchio addetto alle spedizioni grappe offriva in giro la solita presa di tabacco e rad burocrata giornalista scettico ironico e ribelle si divertiva a scandalizzare i colleghi con quella sua voce da grillo il suo sguardo maligno e quei suoi gesti a scatti che cosa c'è di nuovo stamani chiesa bon enfant proprio niente rispose pistone i giornali sono pieni di particolari sulla russia e sull'assassinio dello zar l'alunno d'ordine pedrix alzò gli occhi e disse convinto auguriamo ogni bene al successore ma io non mi cambierai con lui rad si mise a ridere ma neanche lui papa grappe cominciò a parlare e con voce lamentosa disse come andrà a finire tutta questa storia rad lo interruppe non finirà mai caro papa grappe finiamo solo noi il fatto è che da quando ci sono i re ci sono anche i regicidi a questo punto intervenne bon enfant allora spiegatemi una cosa signor rad perché vengono sempre colpiti i buoni invece dei cattivi enrico quarto il grande fu assassinato invece luigi quindici morì nel suo letto il nostro luigi filippo è stato per tutta la vita bersaglio degli assassini e a quanto si dice lo zar alessandro era un brav'uomo non è stato forse lui a emancipare i servi della gleba rad alzò le spalle e disse non è molto tempo che hanno ammazzato un capufficio papa grappe che non riusciva a ricordarsi una cosa dall'oggi al domani gridò perché hanno ucciso un capufficio l'aspirante sotto capopistone rispose sì lo sapete bene è stata una faccenda di frutti di mare papa grappe non se ne ricordava più non me ne ricordo rad fece il riassunto degli avvenimenti è andata così papa grappe ricordate un impiegato un giovane che poi fu assolto che volle andare un giorno a comprare dei frutti di mare per pranzo il capo glielo impedì ma l'impiegato insiste allora il capo gli ordinò di star zitto e di non uscire il giovane si ribellò e montò su tutte le furie il capufficio si buttò su di lui e l'impiegato dibattendosi infilò nel petto del superiore le forbici d'ordinanza vera e propria morte da burocrate per dio bisognerebbe discuterne disse sentenzioso il signor Bonenfant l'autorità ha pure un limite un superiore non ha certamente il diritto di disporre lui del mio pranzo e di stabilire qual è il mio appetito se il mio lavoro gli appartiene il mio stomaco no si tratta di un fatto doloroso non c'è che dire tuttavia bisognerebbe discutere l'aspirante sotto capo piston perduta la pazienza ordinò quanto a me signor mio affermo che un direttore deve essere padrone del suo ufficio dalle quale un capitano sulla nave l'autorità è indivisibile se no il servizio diventa impossibile l'autorità di un capufficio proviene dal governo egli rappresenta lo stato e il suo diritto di comandare è assoluto non lo si può discutere Bonenfant si scaldava anche lui Rade li calmò mi aspettavo proprio questo disse bastava una parola di più e Bonenfant avrebbe infilato il tagliacarte nella pancia di Piston la stessa cosa succede con il re i principi hanno un'idea dell'autorità diversa da quella dei popoli è sempre una questione di frutti di mare voglio mangiare frutti di mare no non ne mangerai sì no sì no è quanto basta molto spesso per portare alla morte un uomo o un re ma Pedrix era fermamente attaccato alla sua idea fate pure come vi pare disse ma il mestiere di re oggi non è piacevole è un mestiere come il nostro d'altra parte non è divertente neppure essere pompiere Piston che si era accalmato continuò i pompieri francesi sono una gloria della nostra patria Rade fu dello stesso parere i pompieri sì ma le pompe no Piston prese la difesa delle pompe e dell'organizzazione e soggiunse la questione è allo studio l'attenzione si ridesta e i uomini competenti se ne stanno occupando non passerà molto tempo che avremo mezzi adeguati al bisogno Rade scuoteva tuttavia la testa credete? proprio credete? ebbene siete in errore niente sarà cambiato in Francia i sistemi non cambiano il sistema americano consiste nell'avere acqua molta acqua acqua a fiumi che bravura spegnere gli incendi con l'oceano a portata di mano in Francia invece si lascia tutto all'iniziativa all'intelligenza alla trovata se non c'è acqua niente pompe ma soltanto pompieri il sistema nostro è questo fate arrostire i pompieri quei poverazzi veri e propri eroi spengono gli incendi a colpi d'accetta quale superiorità sull'America? pensate e quando qualcuno è stato lasciato bruciare se ne parla il consiglio municipale parla il colonnello parlano i consiglieri i due sistemi vengono posti in discussione quello dell'acqua intendo e quello dell'iniziativa una personalità qualunque pronuncia sulle tombe delle vittime non addio pompieri ma arrivederci ecco signore come si fa in Francia ma papà grep che dimenticava i discorsi via via che la conversazione andava avanti chiese dove ho letto questo verso che avete recitato non addio pompieri ma arrivederci in beranger dispose gravemente il signor Rad il signor Bonenfant sperso sulle sue riflessioni sospirò che catastrofe quell'incendio dei grandi magazzini Rad continuò ora se ne può parlare a freddo perdonate il bisticcio abbiamo il diritto credo di contestare l'eloquenza del direttore di quello stabilimento uomo di buon cuore dicono non ho dubbi e abile commerciante è evidente ma che sia oratore lo nego ma perché chiese Pedrix perché se l'orribile disastro che lo ha colpito non avesse attirato su di lui la compassione di tutti ti sarebbe davvero da ridere di quel discorso tipo la palisse con il quale placò i lamenti dei suoi impiegati signori disse loro pressapoco sapete come farete a mangiare domani neppure io credetemi sono davvero da compiangere per buona fortuna ho qualche amico uno mi ha dato in prestito 10 centesimi con i quali posso comprare un sigaro in certe circostanze non si fumano sigari di lusso un altro ha messo a mia disposizione un franco e 75 per prendere una carrozza un terzo più ricco mi ha dato in prestito 25 franchi per comprarmi una giacchetta alla Belle Jardinier sì io direttore di Oprantamp sono andato dalla concorrenza alla Belle Jardinier ho ottenuto 15 centesimi da un altro per un'altra cosa siccome non avevo più neanche l'ombrello ne ho comprato uno di Alpaga che mi ha costato 5 franchi e 25 ottenuti grazie a un quinto prestito poi siccome mi si era bruciato il cappello e non avevo intenzione di far più debiti ho afferrato l'elmo da pompiere eccolo là seguite il mio esempio se avete degli amici affidatevi alla loro benevolenza quanto a me vedete figli miei sono indebitato fino al collo ora uno dei suoi impiegati avrebbe potuto obiettare ma con questo cosa dimostrate padrone tre cose la prima che non avevate denaro in tasca succede anche a me quando dimentico il portafoglio a casa ma ciò non prova che non abbiate di vostro palazzi roba di valore assicurazioni seconda cosa che godete di un certo credito presso gli amici tanto meglio per voi approfittatene terza cosa che siete stato assai sfortunato perbacco lo sappiamo e ci dispiace molto ma ciò non migliora la nostra situazione ce la date a bere bella veramente con quel vostro abbigliamento da bancarella nell'ufficio questa volta tutti furono d'accordo Bonenfant scherzosamente soggiunse mi sarebbe piaciuto vederle le ragazze del magazzino scappare in camicia rad continuò e chi si fida di questi dormitori di vestali che stavano per rimanere arrostite tal quali l'anno scorso i cavalli della compagnia degli omnibus nelle loro scuderie se si volesse rinchiudere qualcuno bisognerebbe rinchiudere i lampioni questi sì che andrebbero messi sotto chiave ma quelle povere ragazze del reparto biancheria quelle no davvero un direttore diavolo non può essere responsabile di tutti i capitali che si trovano sotto il suo tetto è vero che quelli degli impiegati sono andati in fiamma insieme alla cassa auguriamoci dunque che siano salvi quelli delle ragazze più curioso di tutto è il corno con il quale sono stati mandati a chiamare gli impiegati che bel finale pensate quei lunghi corridoi pieni di fumo quel fiammeggiare quel tumulto della fuga quel terrore generale e ritto in piedi sul pianerottolo centrale in ciabatte e mutande a tutta canna suona un moderno Ernani un Orlando dell'ultimo grido l'alunno d'ordine Pedrix disse improvvisamente è proprio uno strano secolo quello in cui viviamo noi un'epoca inquieta e quella faccenda di Rudufo ma a un tratto l'usciere socchiuce la porta è arrivato il capofficio signori in un batter d'occhio tutti fuggirono filarono via scomparvero come se anche il ministero andasse a fuoco